Fortunato ed è rete, 1-0. Del primo tempo nient'altro da segnalare, il campo è in condizioni precarie. Nei primi minuti della ripresa una delle rare azioni offensive del Cesena, Ciocci, tiro di Piracini ribattuto da Tacconi. Qui invece Hessler ha Schillaci che non sfrutta l'occasione. Poco dopo azione analoga, questa volta Schillaci tocca appena la palla ma ballotta, è pronto. Il Cesena si procura un'occasione al diciottesimo con Silas ma l'uscita di Tacconi sventa il pericolo per la Juve. Qui Hessler per Julio Cesar respinge ballotta, riprende Casiraghi, ribatte Barcella. Al ventinovesimo il raddoppio, Barcella all'indietro verso il portiere. Intercetta Casiraghi, si libera di Barcella e va a tirare. Ballotta tocca ma non trattiene il pallone. 2-0 per i bianconeri. Al quarantatresimo il terzo gol. Hessler, De Agostini, guardate, gran tiro di De Agostini da lontano ed è il 3-0. Nei minuti di recupero di Cagno, con il numero 16, Schillaci che manda sul palo. Grazie. Grazie.